Quanto a Tansi Calisto, dichiaro il imputato responsabile del reato di cui, al punto D, anche relativamente per le condone, per l'effetto ridetermina la pena nei confronti di Tansi Calisto in anni 17, mesi 10 di reclusione. Dobbiamo quindi per forza leggere la sentenza, anche se già posso anticipare che alcuni temi di base sono e rimangono irrisolti e quindi ci troveremo costretti a dedurli davanti alla Corte di Cassazione in sede di impugnazione. Ci può dire qual è la condizione di salute del suo assistito? Ah, quella è pessima. Le condizioni di salute sono assolutamente delicate. Nell'effetto ridetermina la pena nei confronti di Tonna Fausto in anni 9, mesi 11 e giorni 20 di reclusione.